e se con me è un nome Rocco Ant un saluto a fanpage si sento freestyle Rocco quando faccio freestyle vengo come camion sfongo Larry Stone e sfongo pure a Canon yes salve a tutti siamo qua con Rocco Ant il quale ha appena avuto la notizia del disco d'oro ma una bella soddisfazione infatti devo condividere subito sui social non ci ho avuto manco un secondo dall'euforia però è davvero un bellissimo non traguardo, un altro punto di partenza ecco, ammo ci fu nato tra l'altro viene dopo ovviamente due settimane in cima da classifica una cosa che per un artista campano non succedeva erano anni insomma come dire, Sanremo e la tua gavetta sono servite a qualcosa si, Sanremo da amplificatore e la mia gavetta insomma da sostanza da struttura però diciamo è la prima volta che mi affaccio nel mercato discografico prima mi autoproducevo insomma c'era un altro modus operandi adesso comunque mi sono affacciato in una nuova realtà e comunque fare il primo disco ufficiale perché secondo me la verità è il mio primo album ufficiale e riuscire a fare già comunque un ottimo lavoro è davvero una grandissima soddisfazione a 19 anni ma soprattutto essendo campano perché secondo me per noi campani non è solo disco d'oro è solo disco di diamante sì tra l'altro proprio prima dicevi parlavi di questa difficoltà che hanno gli artisti del sud adesso stai a Milano per ragioni per varie ragioni anche perché parlavi di una mancanza proprio di infrastrutture di casa discografica insomma ma sì io sono dovuto andare a Milano comunque perché è chiaro che l'industria discografica è tutta concentrata a Milano prima comunque c'era Roma come Polo adesso comunque è chiaro che tutto è andato a Milano diciamo la mia non è una denuncia è un raccontare un dato di fatto comunque io sono dovuto andare a Milano perché senza non avrei potuto comunque fare l'album che ho fatto e il mio sogno sarebbe un giorno di avere magari un'industria discografica anche qui al sud che promuova talenti del sud e in centri ancora di più l'economia di questo settore diciamo nel meridione ecco anche perché abbiamo visto che diciamo anche tutti gli altri fenomeni usciti in questi anni che hanno sfondato il classifico comunque erano sempre di più fenomeni settentrionali che non è un discorso di razzismo o di insomma di emarginazione è un dato di fatto una soddisfazione nostra il 2013 è stato l'anno del rap definitivo diciamo l'arrivo nel mainstream e questo 2014 pare grazie a te confermarsi insomma cosa pensi abbia influito in questo improvviso boom diciamo del genere ma sicuramente il fatto che comunque il rap e l'hip hop siano un genere diretto quindi in un momento così difficile per il nostro paese i ragazzi volevano sentirsi dire determinate cose che poi sono arrivate attraverso i rapper quando mi dicono i rapper sono i nuovi cantautori io diciamo non sono tanto d'accordo perché secondo me i cantautori sono relegati comunque anche ad un periodo storico quando si dice cantautore si pensa comunque a chi scrive le canzoni che canta però comunque in una determinata epoca noi non siamo i nuovi cantautori ma siamo appunto rapper che è un po' un altro genere ecco come dicevi prima la verità è nato prima di tutto quello che è stato l'album di Sanremo chiaro ma sicuramente a livello di vita è cambiato cioè il mio stile di vita un po' la routine giornaliera perché ogni giorno il piacere e l'onore di girare ogni giorno una città diversa quindi insomma prima avevo vivevo sempre a Salerno in periferia allora avevo più tempo per scrivere per fare adesso sembra strano ci sono artisti che per avere l'ispirazione se ne vanno all'estero io per avere l'ispirazione devo tornare a casa dieci giorni scrivo l'album e vado di nuovo su a registrarlo ecco quello che è cambiato è il fatto che comunque non sto più nel mio habitat naturale però è la cosa bella insomma che l'habitat naturale la periferia cioè lo lascia da dentro e quindi in qualsiasi posto dove vado anche all'estero porto un po' di periferia con me quindi insomma non vado io dalla periferia ma la periferia che viene con me l'ultima cosa sai che adesso comincia tutto adesso Sanremo Disco d'Oro primo in classifica comincia tutto adesso chiaro chiaro sì io la vedo sempre così per me non è mai un punto di arrivo è sempre un altro punto di partenza per arrivare in cima ci vuole ci vuole però comunque è fattibile è scendere giù che ci metti veramente un attimo ecco quindi insomma adesso nel principio della passione che mi ha accolto che mi ha sostenuto e che mi ha cambiato mi ha salvato la vita adesso voglio continuare insomma e fare un tipo di musica che sia non solo a scopo personale ma a scopo collettivo ecco